benvenuti a tutti ragazzi e quest'oggi siamo su minecraft ed esploreremo l'end che come dicendo me stesso è la fine del gioco ma ci sono altre cose che non abbiamo ancora fatto ma che faremo nei prossimi video comunque sono uscito da questo buco e che ho tappato perché c'era l'acqua che entrava e non mi piaceva magari se doveva uscire mi ostacolava comunque la già vedo una e due casse ho visto già mi sono un po' affacciato qui e visto una e due casse e basta direi di partire con l'esplorazione allora di qua non mi serve niente di qui invece non ci credo non ci posso credere e abbiamo trovato già il primo trim ma sembra una coincidenza assurda che io abbia trovato il primo trim così però non lo so direi di andare a esplorare anche altre zone qua c'è quasi scende delle mele le mele sono rare su minecraft sono le mele sono rare comunque se vi stesse domandando questo perché io abbia così tanti rettini alimentari perché vi direte nel land non si può dormire appunto useremo questo cheat per ammazzare il drago ma 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 questa torcia fluttua assurdo un bug assurdesco però continuiamo a esplorare io spero che ci siano altre casse questa è la cosa che abbiamo esplorato prima ok piazziamo un po' di torce che così si vede un po' di più allora spero di trovare il portale perché non è facile è insidiato il portale però vabbè non sarà di certo la cosa più difficile boh io non lo trovo non è che è qua ho insidiato bene qua abbiamo già esplorato io direi di tornare indietro una nuova zona no non è vero perché le porte sono già aperte mi confondono niente anche qua abbiamo trovato quel lì cosa c'è e niente allora abbiamo uno di qui e qua c'è una fontana oh qui non c'è nessuna via di uscita quindi andiamo di qua oh ma cos'è tutte le vie chiuse ci sono oh ok proviamo qua e niente qui proviamo a tornare indietro dove c'era la torcia nel vuoto ok 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 perfetto noi siamo saliti ok proviamo a controllare qua ok allora se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e lasciate like sia al mio canale che a quello di nick 500 ho notato e ho notato che il mio video di los pinguinos mi lavano mascar ha fatto 600 views cos'era pazzi cosa è successo c'è un problema tecnico per stare attento a se sento la lava perchè nel portale c'è la lava in teoria però non sento né lava né niente c'è qui forse stia ritornando indietro perchè io me la ricordo qua e l'unica è qua ora vediamo se qui c'è qualcosa si oddio non ci credo l'ho trovato ce l'avevo sotto il naso proprio se sono andato alla parte opposta comunque gli occhi me ne sono fatti 12 uccidendo blaze ma vabbè non è stato un lavoraccio un lavoraccio perchè blaze spawnano frequentemente nell'ether poi avendo una fortezza a fianco mi si è buggato il il joypad ma perchè si si piazzano storti perchè si piazzano storti? ma... perchè si piazzano storti? ma... Allora Fortunatamente sono riuscito a riparare il problema Che Ho fatto un'altra copia del mondo Sono riandato Cioè mi ero salvato la copia del mondo Ero nel portale E vabbè L'ho rifatto Perché non ho capito perché non andasse Non potevo neanche più togliergli Vabbè Comunque Ho detto ciò direi di andare Nel net Ho un po' paura Nel senso perché Vabbè in caso di pericolo Ho tre pozioni di rigenerazione Che ho trovato dal warden E Non so se ci riuscirò Vabbè Dai Ok 3 2 1 Eccoci qua Allora E niente Ho guardato l'enderman Porca miseria E ora Se mi butta giù È finita Cosa sta succedendo Mamma mia Che sfiga però Quella Devo cercarlo di frecciare No Tutto Paggato Il problema è che se ora io mi avvicino Vabbè Oddio mio Stavo per cadere No Paurissimo Paurissimo Allora Allora Avete visto il video Delle bedwars Se non l'avete visto andatevelo a vedere Allora un secchio d'acqua No No Quale problema ora è anche il drago Ok No no Perché il mio cursore è buggato Ok 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 oddio sta non riesco a colpirlo non riesco a colpirlo non è finita è finita ok è stato un problema tecnico mannaggia non riesco a colpirlo 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 cosa non non riesco a colpirlo non riesco a colpirlo non riesco a colpirlo dai dai ma che cavolo vogliono scendermi in me è finita ok ok non riesco a colpirlo ok ok vittoressa ok ok non c'è incluso sono uno scemo non ancora o Dove. Dove. Inizio il finito. Ok. Ok. No devo finire i cristalli. Senza. Ok. Oddio ma ci sono in mezzo. Oddio ma ci sono. Oddio ma ci sono. Allora. Ma dai. Ma si mettono in mezzo. Oddio. 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 guarda che forse va che forse va si è andato è andato è andato ok mi tipo giù ok là sopra c'è un cristo mallo oh che fortuna lì no lì no lì no lì no è là vediamo se ci riesco forse sì sì aspetto è l'ultima l'ultima pozione di rigenerazione devo poter trasportare giù e che forse ce la facciamo raga sono concentratissimo l'ultima pozione di rigenerazione Vai 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 Ok alla prossima lo killiamo Che testa bassa per non guardare gli enderman E niente L'ultima è Ender Pearl C'è ancora un altro C'è ancora un altro Dove 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 Sì Ce l'abbiamo fatta raga Ce l'abbiamo fatta Abbiamo sconfitto il drago Sì Sì Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Vai raga Ce l'abbiamo fatta Sì ragazzi Ce l'abbiamo fatta sconfiggere il drago 56 punti di esperienza Let's go Let's go Abbiamo concluso Minecraft Sono stremato raga Let's go Sì vai Sì vai Abbiamo concluso Minecraft Craft Ce l'abbiamo fatta raga Let's go Let's go Ce l'abbiamo fatta Detto ciò Ci vediamo ad un prossimo video E con questi dittori di coda Lasciate like Iscrivetevi Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao Oh yum Oh yum Oh yum